L'arte è compagna preziosa per affrontare la solitudine e l'incubo Covid, così l'ex imprenditore Vincenzo Ercolino, presidente della Scandone all'epoca e della conquista della Coppa Italia di basket nel 2010, che in questo periodo di buio rivela è riuscito comunque a colorare la sua vita con i pennelli. Ercolino ci parla della sua svolta artistica, l'approccio al materico e lancia l'invito agli innamorati in occasione della festa di San Valentino il 14 febbraio ad irsitiamo con una sua opera, a incarnare e interpretare sentimenti attraverso l'arte, un apostrofo rosa che Ercolino è pronto a dipingere con i colori dell'arcobaleno. Stando chiuso è venuta fuori la vecchia mia voglia di dipingere e quindi di mettere su tela quello che il giorno mi dice, la mente, sto lavorando adesso con un nuovo tipo di pittura, non la tradizionale, quella che Carlo Alleva mi insegnava a dipingere, l'ho scoperto così di pugno e di impatto perché fare sempre, stilizzare sempre le stesse cose per due anni di seguito, chiuso, ho voluto cambiare e quindi mi sono dedicato ad una pittura chiamata Materica che è nata nel 1950 ed è con prodotti di gesso, di stucco e poi i colori adatti per per creare dei quadri che in effetti poi li avete ripresi e quindi chi ne capisce si vede. Che si avvicina a San Valentino attraverso l'arte vorrebbe rappresentare quello che è l'amore tra fidanzati, tra compagni, tra persone che stanno insieme. Sì, perché l'arte, se andiamo a vedere nell'arte si riscopre l'amore, si riscopre quello che è la vita quotidiana di un avvenire e quindi alle coppie di San Valentino invito a vedere questo tipo di pittura e magari anche a rappresentare sui quadri un amore. Sì, sì, i quadri in amore.